Servizio Civile Universale, una scelta che cambia la vita tua e degli altri. Per i giovani dai 18 ai 28 anni è possibile partecipare al bando di Servizio Civile Universale 2020. Il settore cultura, turismo, musei e biblioteche del comune di Padova offre la possibilità di fare questa esperienza nel programma Cultura in Jeans che interviene con due progetti negli ambiti del patrimonio, della tutela e della valorizzazione dei beni artistici e culturali. Progetto Libra Mente Il progetto si svolge nella Biblioteca Civica della città. Le attività sono finalizzate alla promozione dei servizi della biblioteca come l'accoglienza al front office, l'assistenza agli utenti, la realizzazione di laboratori di lettura e di altre attività rivolte ai cittadini. Progetto Musei in Jeans Il progetto si svolge nel prestigioso complesso museale degli Eremitani e della Cappella degli Scrovegni. Gli operatori volontari si occupano dell'accoglienza del pubblico e contribuiscono all'ideazione, comunicazione e realizzazione di eventi, mostre e percorsi didattici. Inoltre partecipano alla catalogazione di opere e collezioni archeologiche e librarie. Per maggiori informazioni visita il sito progettogiovani.pd.it Vai avanti, vai avanti perché tanto io la taglio. Complesso museale degli Eremitani e della Cappella Sistina. Fantastica, la Cappella Sistina è bellissima. Io oso i giorni che continuo a sbagliarmi sulla Sistina.